ciao ragazzi e bentornati nel video di oggi vi mostrerò come realizzare un make up look romantico con la regina delle palette sto parlando della nuova nude palette di huda beauty e allora preparate gli attrezzi che si comincia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti bene ragazzi questo è il look finito spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un like qui qui sotto fatemi sapere nei commenti se avete voglia di vedere altri look realizzati con questa palette e come al solito ricordatevi di condividere questo video con un amico appassionato di cosmetici arabi e danza del ventre naturalmente se non siete ancora iscritti al mio canale per favore iscrivetevi perché è gratuito e nel frattempo potete continuare a seguirmi anche sugli altri social facebook facebook instagram e twitter cercatemi sempre come mia fromm Da Casa Fromm è tutto, adieo!